Quali sono i limiti di comunicazione delle videochiamate? Guarda questo video per scoprirne uno davvero notevole. Sono Maddalena e tu sei su Adam Ascarisma per tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! Avrei sperato che questo tipo di video potesse diventare obsoleto, ma la pandemia è imperversa ancora e con essa i cambiamenti nelle nostre abitudini. Tra l'altro suppongo che certe nostre abitudini comportamentali perdureranno anche una volta che il covid finalmente abbandonerà le nostre esistenze. Perché ormai si sono radicate e si sono rivelate una valida alternativa. Una di queste abitudini ormai molto diffusa è quella di fare ricorso alle videochiamate piuttosto che alle conference call. In molte situazioni si sono rivelate veramente indispensabili e hanno risolto parecchi problemi. Ma nonostante la loro praticità, non potranno mai essere davvero equivalenti alla comunicazione di persona. Ho già affrontato questo tema in altri video da differenti angolazioni e ti invito ad andare a guardarli. In questo ti ho parlato di 4 possibili soluzioni per andare a risolvere dei problemi delle videochiamate ed in questo come riuscire a creare empatia anche senza avere il contatto di persona. Ora però vorresto fermarmi su un altro aspetto altrettanto importante, anche se spesso molto sottovalutato. La maggior parte delle persone, come naturale che sia, tende a guardare negli occhi l'interlocutore mentre conversa. E questo in teoria avviene anche durante le videochiamate. Sullo schermo guardiamo l'altra persona negli occhi. Ma questo avviene solo nei nostri intenti, non nella realtà. Ciò che avviene è che l'altra persona non si sente mai davvero guardata. Ha la sensazione di essere guardata più in basso, all'incirca all'altezza del collo. Ed è estremamente negativo in termini di comunicazione. Ciò accade perché la videocamera è posizionata più in alto e dovremo sforzarci di guardare lì per trasmettere la sensazione di avere un contatto oculare, anche se non ci viene spontaneo a farlo. Il contatto dello sguardo è fondamentale per una corretta comunicazione. E se desideri sapere tutto su questo argomento, dopo guarda la playlist dedicata agli occhi. Scoprirai moltissime utili informazioni che potrai mettere subito in pratica. Questa necessità di guardare ed essere guardati negli occhi è radicatissima in noi e risale già a quando siamo dei neonati. Il neonato, infatti, ricerca in continuazione lo sguardo della madre, anche mentre viene allattato. È uno dei primi contatti che gli rivelano la sua identità e che creano un legame. Un bisogno così atavico non può certe essere annullato durante l'era tecnologica. E dunque è anche per questo che in genere le videochiamate lasciano quella sensazione di distanza e di scarsa comunione. Se, come suppongo, molte delle nostre attività tenderanno ad essere svolte in questo modo anche dopo la fine della pandemia, sarebbe bene porvi il rimedio. La pandemia purtroppo ha creato problemi di comunicazione anche in presenza, perché l'uso della mascherina occulta gran parte del volto e con esso un'enorme mole di informazioni del linguaggio del corpo. Avevo dedicato un video apposito all'argomento nel quale ti spiegavo come riuscire a comunicare al meglio con gli altri nonostante la mascherina. Avrei preferito che non fosse più utile quel video, ma a quanto pare la mascherina purtroppo ci accompagnerà ancora per molto tempo. E dunque ti invito ad andare a guardarlo per imparare ad interpretare correttamente la comunicazione e il tuo interlocutore nonostante questa barriera. Durante le videochiamate quantomeno non la indossiamo e quindi possiamo vedere il viso nella sua interezza. Ma non il corpo che in genere viene inquadrato a mezzo busto. Possiamo eventualmente cogliere segnali delle mani in chi si è abituato a gesticolare. Puoi guardare la playlist dedicata alle mani per interpretare la gestualità o al limite i movimenti del busto che si può avvicinare o allontanare a seconda dell'interesse o del fastidio per quanto viene detto. Gli strumenti tecnologici sono utilissimi e il progresso contribuisce a risolvere molti problemi, ma sta a noi utilizzarli al meglio e sopperire alle mancanze ed a difetti che portano con sé. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.